Sì, sì, sì. Mi porterò via! Corri! Presto! Coraggio! Sei ferita? Sei ferita? La gente deve sapere che la scossa non è finita. Colpirà di nuovo. E sarà un mostro più grande. Oh mio Dio. La Terra, letteralmente, si spaccherà. Si sentirà. Fino a New York. Mi voglio darle, papà. Non so come ripetervelo. Dovete andar, René. Andatevi adesso. Se non potete, Dio sia con voi. Vieni di forte! Dobbiamo superarla prima che si rompa! Una notizia importante per i fan dei videogiochi. Il film, dedicato a gran turismo, potrebbe aver trovato il suo regista. Sony Pictures, che si occuperà della distribuzione, avrebbe avviato una trattativa con Joseph Kosinski, il regista di Tron Legacy e Oblivion. Parlando della sceneggiatura, per ora si sa solo che il film sarà incentrato su un player che dopo una serie di eventi diventerà un pilota. Interessante? Vi aggiornerò presto con ulteriori sviluppi. Iscrivetevi al canale, quindi se volete rimanere aggiornati, e scaricate la nostra app sia con iPhone che Android. Ciao!